Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico congestionato ci sono due chilometri di coda tra Aglio e Barberino. In direzione Bologna per la chiusura delle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e dello svincolo di Firenze Impruneta un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sempre in direzione Bologna ma per traffico intenso code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bibio per la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana una città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!